Con oggi lunedì 3 luglio abbiamo iniziato la seconda settimana presso l'oratore estivo della parrocchia Santo Stefano da Nicea ad Archi di Reggio Calabria. Appena riuniti Chiara del laboratorio di ballo ha approvato un balletto per lo spettacolo della serata finale con tutti i ragazzi. A questo punto c'è stato il suono della campana con i segni di Marcellino all'interno dell'assemblea. Quindi il momento di preghiera a cura del gruppo dei rossi e il diario a cura del gruppo dei blu. A questo punto c'è stata la narrazione della quinta parte della storia di Marcellino per quanto riguarda il gruppo degli animatori. Abbiamo così salutato Maria e Gabriele che sono i due inviati del convento del crocifisso. Quindi a questo punto Padre Aldo ha spiegato il gioco di oggi, una caccia al tesoro nei lotti del quartiere di Archi. A rientro tutti hanno fatto merenda a base di pizza e quindi ognuno ha preso posto nel proprio laboratorio. Noi oggi abbiamo esaminato il laboratorio di decorazione curato da Stella Suraci, con la costruzione e la realizzazione di quadretti che poi saranno messi in vendita nella serata finale con una bancarella. Così si è arrivati a fine giornata con la preghiera e quindi appuntamento a domani. Grazie.